la torta al cioccolato per la festa di compleanno di Avery e è arrivato il momento per voi bambini di fare un pisolino Tilly, non fare la monella non riuscirai a dormire se mangi quella torta zuccherata so che è difficile bambini ma se fate un buon pisolino potete mangiare la torta più tardi alla festa notte bambini buon pisolino sogni d'oro buon pisolino 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 che succede qui è incredibile quindi questo lo sposta e poi da questa parte attenzione quella è la mia torta fermatevi subito fermatevi i bambini beh è un sapore molto buono anche sulla tua faccia buon compleanno a te piccoli bambini dovete venire con me adesso guardateli possiamo darvi un po di queste tortine spiacente bambini se commettete un reato dovete scontrare la pena